Negli hub pugliesi a partire da oggi si procederà a vaccinare solo chi ha la prenotazione limitando le somministrazioni a sportello soltanto ad alcune categorie di cittadini o al termine della giornata per esaurire le scorte. Intanto si marcia al ritmo sostenuto con la somministrazione dei vaccini in Puglia superando come accaduto nel corso della settimana appena trascorsa la soglia minima di somministrazione indicata dal commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliolo. Soltanto sabato scorso hanno ricevuto una dose di vaccino 28.311 pugliesi, 26.794 sono stati i richiami, 1.014 le prime dosi, 491 le seconde. La campagna di copertura con le cosiddette dosi booster ha dunque goduto di una importante accelerata. Del 1.032.000 cittadini over 40 che ne hanno diritto l'hanno già ricevuta in 576.008. Resta da coprire il 55,77% dei pugliesi che in quella fascia d'età hanno già completato il ciclo vaccinale. Si assottiglia anche complici le nuove stringenti regole sul Green Pass quella fetta di popolazione che non ha finora ricevuto nemmeno la prima dose. Si tratta di 468.220 persone che nelle prossime settimane potrebbero raggiungere i numerosi hub vaccinali allestiti nelle diverse province per ottenere il Green Pass e l'opportunità dunque di sfruttare mezzi pubblici e andare al lavoro senza ricorrere ai tamponi. Nell'asla di Bari che ha somministrato solo fra sabato e domenica 8.744 dosi di vaccino anti-covid è stato attivato un nuovo hub vaccinale all'interno del museo civico archeologico inaugurato con un open day riservato al personale della scuola. Il capoluogo di regione si distingue per l'elevata copertura di dosi booster già somministrate ha ricevuto il richiamo al 40,4% degli over 18 e il 59,8% degli over 80. Nella BAT le dosi di vaccino somministrate fra sabato e domenica sono state 3.233 numeri che confortano del proseguo della campagna vaccinale in Puglia ottava nel paese con il 14,64% per somministrazione di terze dosi.